La Capitale della Cultura 2024 si è tolta i veli nella Capitale con la C maiuscola. Il programma La Natura della Cultura di Pesaro 2024 è stato presentato ufficialmente al Maxi di Roma. Nel talk show condotto dalla giornalista Serena Bortone, Ricci, Vimini e Ritano hanno illustrato come la provincia di Pesaro Urbino affronterà questa sfida alla presenza di grandi personalità del mondo della politica, Ministro San Giuliano in primis, della Cultura e del Giornalismo. Una Capitale che germoglierà con il cater Capodanno di Radio 2 in Piazza del Popolo alla presenza delle esibizioni di Colapesce di Martino, proseguendo con un anno da 329 eventi e 50 comuni in campo. Una Natura della Cultura mobile, ubiqua, imprevedibile, operosa e vivente. Queste le cinque sezioni di eventi che avranno la inaugurazione istituzionale il 20 gennaio alla Vitrifigo Arena col presidente Mattarella e la conduzione di Paolo Bonolis. Pochi giorni dopo arriverà la Biosfera in piazza che sarà l'icona permanente di Pesaro 2024 prima di arrivare al 29 febbraio, compleanno di Gioachino Rossini che donerà alla città il nuovo Auditorium Palace Cavolini. È un appuntamento unico perché se riusciremo a giocarcelo al meglio, come stiamo facendo, potrà segnare lo sviluppo del nostro territorio per almeno un decennio. Abbiamo coinvolto tutti i comuni della provincia, è una grande occasione per scoprire l'intero territorio di Pesaro Urbino ed è un modo anche per far crescere la nostra proposta culturale nei prossimi anni insieme ad altre città medie come noi, penso in particolar modo a Matera, Mantua, che sono città con le quali abbiamo lavorato molto, con Parma, con Tempio Pausania, e con altre città medie come noi che hanno deciso di investire sulla cultura per costruire nei prossimi anni lavoro e sviluppo. Presentarlo qui nel luogo che è un tempio nazionale anche del contemporaneo e dell'arte contemporanea vuole essere proprio l'idea di stare su quello che ancora vogliamo creare generale. Tutto lo sia parla di patrimonio, di sostenibilità, di tecnologia naturalmente, ma vogliamo partire dal luogo del contemporaneo dove Pesaro ha una grande storia anche rispetto all'arte contemporanea, arrivare a raccontare con forza una storia nuova. Su questo chiamiamo raccolte le comunità, le scuole, le intelligenze, gli artisti, quelli che vorremmo che rimanessero a Pesaro, quelli che vorremmo che tornassero a Pesaro nella regione come accade con la biosfera, questo grande investimento che nasce dalla tecnologia ma nasce anche dalla sapienza di tante imprese e menti tra Marche e Romagna. Quindi insomma siamo molto contenti di questi input e crediamo che potranno essere generatori di tanta cultura e tante opportunità anche di lavoro per i mesi e per gli anni a venire. Pesaro, capitale della cultura che è arrivata a Roma passando per Berlino e New York a braccetto degli eventi di promozione del Rossini Opera Festival. Il presentarci in queste tappe con questa doppia nome di Rossini Opera Festival e di capitale della cultura ha incrementato l'interesse e la volontà di accogliere la nostra proposta quindi sicuramente è un binomio che funziona, è un binomio che dalla nomina abbiamo subito spinto tanto quindi tutti gli appuntamenti dove normalmente il protagonista del ROF sono stati fatti all'insegna di capitale della cultura e quando è stata la volta di presentare capitale della cultura spesso Rossini Opera Festival è stato il testimone al scelto. Formare la cultura di tutti, di tutta la gente, per cui le canzoni se sono di grande livello portano la gente ad un altro livello. Quello che si scopre è che se uno offre dei prodotti anche culturali anche un po' impegnativi però nella dovuta maniera la risposta è enorme, voglio dire questo che c'è bisogno di un'offerta alta, non è frequente però c'è. Anche come prefettura faremo tante cose quindi viva Pesaro, viva la provincia di Pesaro perché saranno tutti interessati e speriamo che sia un bellissimo anno. Commercio è partner ufficiale dell'evento avendo investito in questa iniziativa che porterà risultati molto positivi per l'economia turistica. Pesaro Capitale della Cultura è un progetto che riguarda tutti, tutti abbiamo fatto il tifo perché Pesaro riuscisse a ottenere questo riconoscimento e tutti ci impegneremo affinché davvero il 2024 possa essere un anno di grandi soddisfazioni e di grande crescita per la città. Io mi occupo di coordinare i volontari per Pesaro 2024, non sono persone che lavoreranno chiaramente sulle attività, sui progetti, sulle manifestazioni ma sono coloro che potranno vivere da protagonisti e non solo da spettatori la capitale italiana della cultura, tutto ciò che ci girerà attorno. Sono qui oggi a Roma sia per curiosità anche per affiancare il mio collega e per capire come muovermi anch'io tra un anno visto che un anno è lungo ma per noi è brevissimo.